E questa è la musica della nostra tradizione romagnola perché parliamo del grande maestro secondo Casadei. Sono tre grandi cd che contengono sui 18-19 brani cada uno quindi avete tantissima bella musica da ascoltare e parliamo di canzoni come Un Bese in Bicicletta, Federico, Il Valzer dell'Amore, Il Valzer dell'Usignolo magistralmente eseguito dal maestro Claudio Bruciaferri, Ricordando Rossini, La Marcialonga, Lasciatemi Passare e poi ancora Saluti a Tutti, Dedicato a Mina, Baci d'Amore, Il Treno di Forlì, Malinconico Settembre, Appassioneda, Notte Triste, Verso il Tramonto, Serenata, Cia Cia Cia, un'enciclopedia di musica meravigliosa a casa vostra che vi allieterà le giornate e anche con questi tre bellissimi volumi sempre a casa vostra, sempre solo a 39 euro in regalo le nostre bellissime mascherine, potete usarle sia in un modo che nell'altro, all'interno c'è il tessuto TNT per proteggervi, ovviamente non sono un ausilio medico ma sono per proteggervi personalmente, le potete lavare in lavatrice quante volte volete e guardate che meraviglia di colori, le ho realizzate appositamente per regalarvele all'interno di questi pacchetti di cd, quindi uniamo l'utile al dilettevole, compreso spese di spedizione e di contrassegno, quando arriva il postino e vi suona la porta dovete soltanto ritirare il pacco e consegnare la somma in contanti e poi godervi tanta bella buona musica e chissà che guardando il nostro logo non vi scappi un sorriso, quindi aspetto le vostre telefonate per portarvi a casa questa grande musica, vi ricordo un bellissimo regalo di Natale, iniziate subito, non si sa mai, così avete già tutti i pacchettini pronti e farete un figurone, perché se continua così davvero forse l'unica musica che riusciremo ad ascoltare a fine anno sarà quella dei nostri bellissimi cd.